Leonardo, si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. Gol importantissimo, decisivo e una prova da ottima squadra con anche tanti assenti. No, sono contento ma più che il gol per la partita che abbiamo fatto perché sai quando si finisce la preparazione si sempre carichi sulle gambe, era la prima partita ufficiale, non era scontato il risultato, invece abbiamo fatto una bellissima partita. Hai giocato tante volte esterno in carriera, qui stai interpretando il ruolo di seconda punta nel migliore dei modi, te lo senti tuo? Sì, lo preferisco, mi piace di più stare al centro del campo, più possibilità di passaggio, di recensione della palla e poi mi trovo veramente bene con i miei compagni di reparto e penso che stia venendo fuori qualcosa di veramente buono. Si diceva prima calcio d'agosto, le amichevoli non contano, beh questa era una partita ufficiale, è vero, non era campionato ma dal punto di vista morale e mentale quanto serve questa vittoria? Ma tantissimo, anche a me mi hanno sempre detto calcio d'agosto, non ti conosco no? Adesso ne abbiamo iniziato alla grande e ci servirà sicuramente come spinta per arrivare domenica nel migliore dei modi. Un piccolo assaggio dei tifosi l'ho già avuto, un po' si sono fatti sentire oggi nonostante il caldo e comunque il periodo in cui ancora qualcuno è in vacanza ma questa è la propatria. No, fa veramente piacere, poi calcola che l'anno scorso era il primo anno tra i grandi e non ho mai avuto la possibilità di giocare con i tifosi, quest'anno sicuramente ci daranno e mi daranno una mano in più.